Si sono conclusi poco fa i funerali di Alexei Navalny, celebrati in una chiesa alla periferia di Mosca. Presenti anche i genitori del più famoso oppositore di Putin. In gente lo schieramento di polizia in assetto antisommossa. Ci attendono tempi duri e lotte più grandi, ha detto alla folla presente la portavoce di Navalny. Se l'Ucraina dovesse perdere, la NATO combatterà contro la Russia e l'avvertimento del Pentagono dopo le minacce di una guerra nucleare arrivate dal Presidente Putin nel suo discorso alla Duma. La Premier Meloni è arrivata a Washington, dove l'Ucraina sarà uno dei temi principali del suo incontro con Biden. Israele sotto attacco dopo la strage dei civili a Gaza, il cui bilancio è salito a 112 morti e 760 feriti. Tel Aviv parla di uno sfortunato incidente, addossandosi la colpa di 10 vittime e le altre sarebbero dovute alla calca scoppiata a seguito degli spari. Da Stati Uniti, Unione Europea e Nazioni Unite arriva però una durissima condanna all'azione militare israeliana, carneficina inaccettabile. Le parole di Mattarella non vanno mai trascinate nella polemica politica. La segretaria del PD Schlein interviene nello scontro con la maggioranza per gli incidenti di Firenze e Pisa. Fratelli d'Italia con Donzelli smentisce nettamente contrasti tra Quirinale e Palazzo Chigi. Le frasi di Meloni su Mattarella ambigue e vigliacque. Attacca invece Conte. Nel fine settimana manifestazioni pro-Palestina in diverse città italiane si inizierà domani da Pisa e Firenze. Affollatissima la prima odienza in corte d'appello a Brescia per la revisione del processo sulla strage di Erba. In aula Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo per l'uccisione di quattro persone l'11 dicembre 2006. È impossibile ribaltare le prove e le istanze di revisione sono inammissibili, sostiene la procura generale. Loro sono innocenti, afferma Azzuz Marzuc che nella strage perse moglie e figlio. Lazio-Milan vietato sbagliare stasera all'Olimpico la sfida tra due deluse del campionato. Nessun turnover per Pioli nel nuovo corso targato Ibraimovic. Tutti in discussione a partire dal tecnico per la Lazio. Ultima chiamata per la zona Champions. Frizioni tra Sari e la società. Il presidente Lotito scaccia gli alibi. Rosa ampiamente sufficiente per i nostri obiettivi. Buongiorno dal telegiornale della Sette. Dunque in primo piano in questa giornata i funerali dell'oppositore russo Navalny che ci portano a Mosca dove fin dalle prime ore della mattinata centinaia di persone si sono messe in fila fuori dalla chiesa, accolte da un ingente schieramento di forze dell'ordine. Infatti il Cremlino non ha autorizzato chiaramente manifestazioni attorno a questi funerali, al quale hanno partecipato gli ambasciatori europei. E dal quale partiamo. Non sono gli inni religiosi e non sono le preghiere a scandire il film del funerale di Alexia e Navalny. Sono le urla della folla di coraggiosi che si è radunata davanti alla chiesa dell'icona della Madonna che allevia le mie pene. A Mariino, il quartiere a sud-est di Mosca dove la famiglia Navalny aveva vissuto fino all'avvelenamento di Alexiai. Navalny, Navalny gridano quando poco dopo mezzogiorno il furgone nero con il corpo del dissidente arriva sul piazzale. Poi scattano gli applausi e poi altri slogan. Tu non avevi paura, noi non abbiamo paura. Assassini, non dimenticheremo mai. Le forze speciali russe sono presenti in massa nei giorni scorsi. Tutta la zona intorno alla chiesa è stata riempita di telecamere. Chiunque sia venuto qui lo ha fatto a costo di un grave rischio personale perché se oggi nessuno interviene per fermare le urla di una folla comunque composta, nessuno sa quale potrebbe essere la vendetta del regime di Putin nei prossimi giorni quando la stampa internazionale sarà lontana. A salutare Navalny, morto improvvisamente lo scorso 16 febbraio nella colonia penale siberiana dove scontava la sua pena senza che ancora ci sia stata una spiegazione credibile. Erano presenti anche gli ambasciatori di Stati Uniti, Germania, Francia e l'incaricato d'affare italiano, visto che la nostra sede diplomatica mosca è vacante. All'interno della chiesa sono state proibite foto e riprese. Per la famiglia c'erano i genitori, Anatoly e Ludmila, la madre che per oltre una settimana aveva dovuto combattere contro chi è arrivato a minacciarla di profanare il corpo del figlio se non avesse consentito un funerale senza chiasso e senza ricordi. I figli e la moglie Giulia vivono all'estero, finora nessuno di loro ha pubblicato messaggi sui social. Nei giorni scorsi Giulia Navalny era stata la voce più forte nell'accusare il Cremlino per la morte del marito. Vladimir Putin è il suo assassino, aveva detto senza mezzi termini anche davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Qui a Mosca questa gente ha avuto persino il coraggio di gridare la Russia non è Putin. A meno di due settimane dal voto, che già senza possibilità di dubbio lo riconfermerà al potere per i prossimi sei anni, il presidente dittatore oggi ha avuto certamente modo di vedere che non tutti i russi ancora hanno paura di lui. Andiamo invece adesso a vedere come il giorno dopo le rinnovate minacce nucleari da parte di Putin all'Occidente, se mai dovessero entrare forze della Nato in Ucraina per sostenerne la difesa. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per la seconda volta in sette mesi si ha a Washington per incontrare Joe Biden, lo farà in veste di presidente di turno del G7, perché adesso il tema è anche cosa fare se l'Ucraina dovesse cadere. Se cade l'Ucraina, credo che la Nato dovrà combattere con la Russia. A dirlo il segretario della difesa statunitense, Lloyd Austin, il capo del Pentagono, parla in audizione davanti al congresso. Sappiamo, dice che se Putin ha successo qui, non si fermerà, continuerà ad adottare altre azioni aggressive nella regione, continuerà ad avanzare e attaccare territori sovrani suoi vicini. Se io fossi un paese baltico, avverte, sarei veramente preoccupato di quello che potrà succedere. Conoscono Putin, sanno quello di cui è capace. Austin ha raccolto l'appello, lanciato qualche ora prima e sempre ai rappresentanti del Parlamento americano, dal presidente Joe Biden di sollecitare via libera gli aiuti per circa 60 miliardi in favore dei Kiev. Un tema questo più volte sollevato dal presidente Zelensky, che Biden affronterà questa sera alla Casa Bianca, quando alle 19 ora italiana riceverà Giorgia Meloni in veste di presidente di turno del G7. La replica di Mosca, le parole di Austin, affidata alla portavoce del Ministero degli Esteri Russo, Maria Zakharova, sono una minaccia diretta alla Russia o vogliono essere una scusa per Zelensky? In entrambi i casi, sottolinea, è una follia, però ora tutto il mondo vede chi è l'aggressore, Washington. Ieri però Vladimir Putin, nel suo discorso alla nazione, aveva parlato di conseguenze tragiche per i paesi della Nato che decidessero di inviare truppe in Ucraina. Una replica, forse, alle parole del presidente francese Macron, che due giorni fa, riunendo a Parigi i leader di oltre 20 paesi europei, non aveva escluso, tra gli strumenti che l'Occidente potrebbe utilizzare per impedire che la Russia vinca la guerra, anche l'invio di truppe di terra. Non c'è consenso al momento sulla possibilità di inviarle in maniera ufficiale, aveva spiegato Macron, ma in termini di opzioni sul campo non possiamo escludere niente. Del resto, la questione della transinistria, che ha chiesto la protezione di Mosca, potrebbe essere un buon pretesto per le mire espansionistiche del Cremlino. La comunità internazionale, a due anni dall'invasione, sta provando a disinnescare il rischio di un escalation. La Germania, ha spiegato il cancelliere tedesco Scholz, non invierà i missili a lungo raggio Taurus promessi perché l'Ucraina potrebbe lanciarli per colpire Mosca. Spostiamoci adesso invece in Medio Oriente, dove è unanime la condanna per la strage di Gaza, la morte di 112 palestinesi, il ferimento di altre 750 persone che si trovavano affamate e in coda per ricevere aiuti. Tutti civili, per l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Borrell, si tratta di una carneficina inaccettabile. Il presidente francese Macron chiede verità e giustizia, soprattutto il rispetto del diritto internazionale. Su questo punto a condannare è stata anche la Cina. Con un nulla di fatto nella notte, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha sospeso la riunione straordinaria ancora una volta. Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla dichiarazione di condanna della strage che ieri a Gaza ha provocato 112 vittime ed oltre 700 feriti tra i palestinesi in attesa degli aiuti umanitari. La bozza presentata dall'Algeria accusava le forze israeliane di aver aperto il fuoco sulla folla, ma è stata bloccata. I fatti devono ancora essere chiariti e la linea americana. Cina e Francia condannano invece con fermezza la strage di civili, ribadendo la catastrofe umanitaria senza precedenti in atto nella striscia. Una carneficina inaccettabile, ha detto l'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrella. E da Bruxelles la Commissione chiede un'inchiesta indipendente associandosi all'appello internazionale unanime per un immediato cessate il fuoco. Il governo israeliano ieri ha definito la strage uno sfortunato incidente, negando qualsiasi attacco al convoglio umanitario. Mentre i generi di prima necessità venivano distribuiti, migliaia di persone hanno assaltato i camion e la maggior parte dei morti sono stati travolti dalla calca incontrollabile, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa. La prima versione ufficiale parlava invece di una sparatoria dell'esercito per garantire l'incolumità dei soldati. L'atroce massacro deliberato fa parte della guerra genocida portata avanti dal governo occupante contro il nostro popolo, replica Mass, che avverte i negoziati in corso in Qatar per lo scambio tra gli ostaggi del 7 ottobre e i detenuti palestinesi nelle prigioni ebraiche rischiano di saltare. Le immagini aeree diffuse da Tel Aviv mostrano una delle distribuzioni di generi e di sussistenza. È in un simile contesto caotico con migliaia di persone all'assalto dei carichi che è accaduto il tragico episodio solo due giorni fa. Il delegato in Palestina dell'ONU per i rifugiati ha accusato Israele di affamare deliberatamente la striscia di Gaza dall'arresto dei 12 dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite sospettati di fiancheggiare Hamas. Il governo Netanyahu ha deciso prima di limitare e poi di chiudere i valichi di Gaza e i pochi aiuti distribuiti sono gestiti dall'esercito. Per questo Francia, Qatar ed Emirati arabi all'inizio della settimana hanno paracadutato decine di tonnellate di aiuti a Rafah, dove è sfollata metà della popolazione della striscia. Il blocco dei soccorsi rischia insomma di diventare di fatto un'arma ibrida. Il piano per il dopoguerra di Netanyahu prevede l'estromissione totale degli organismi umanitari delle Nazioni Unite e il ministro della sicurezza nazionale Bengvir ha chiesto di fermare ogni invio di aiuto. Sono una follia e danneggiano nel nostro esercito, ha detto. Iran al voto, aperti questa mattina i seggi per le elezioni legislative, le prime dopo il movimento di protesta. Ricorderete che ha scosso il paese alla fine del 2022, duramente colpito poi dalle sanzioni internazionali che hanno portato ad una pesante crisi economica. Oltre 61 milioni gli elettori chiamati alle urne per eleggere i 290 membri del Parlamento e gli 88 membri dell'Assemblea degli Esperti, il collegio che nominerà la guida suprema la massima autorità della Repubblica Islamica. Proprio l'Ayatollah Ali Kamenei è stato il primo a votare nel centro di Teheran. E adesso veniamo in Italia, torniamo in Italia perché non si placa la polemica politica che è stata innescata da quanto successo la scorsa settimana alle manifestazioni di Pisa e di Firenze. Ieri il ministro dell'Interno Piantedosi ha riferito in Parlamento difendendo l'operato degli agenti, delle forze dell'ordine, ma restano le scorie, quelle che da una parte vedono l'opposizione accusare il governo di voler reprimere il dissenso, dall'altra parte le accuse all'opposizione stessa di spalleggiare i violenti. Giorgia Meloni deve chiarire se ce l'ha col capo dello Stato, lo dica chiaramente. Se lascia tutto nell'ambiguità, credo sia vigliacco da parte sua. L'attacco alla Premier del capo politico dei Cinque Stelle è frontale. Conte si riferisce alle dichiarazioni di un paio di giorni fa della Meloni sul pericolo di togliere il sostegno a chi ogni giorno rischia la propria incolumità per garantire quella di tutti. Risposta alla nota del Quirinale sull'uso dei manganelli sui ragazzi come fallimento? Ce l'ha col Presidente della Repubblica, lo dica chiaramente, se hai il coraggio. O allora lo neghi, perché siccome stiamo interpretando così le sue parole, lei lo neghi e dica non ce l'ho. Se lascia tutto così nell'ambiguità, credo sia anche vigliacco da parte del Presidente del Consiglio la dichiarazione integrale. Parole che vanno oltre quelle sempre di stamattina della segretaria PD Schlein, che pure aveva citato Mattarella. Penso abbia detto tutto quello che c'era da dire. Le sue parole non vanno mai trascinate nella polemica politica quotidiana. Ma stupito piuttosto la nota di Fratelli d'Italia che accusa il PD di spalleggiare i violenti, ha detto sempre stamattina la segretaria PD Schlein, commentando anche l'intervento in aula ieri del Ministro dell'Interno sugli incidenti ai cortei di Pisa e Firenze. Da Meloni come da Piantedosi nessuna parola di solidarietà agli studenti feriti e alle loro famiglie, aggiunge Schlein. Ma sui cortei di Firenze e Pisa, tra maggioranza e opposizione, è muro contro muro. Secondo Donzelli, Fratelli d'Italia, la sinistra strumentalizza le parole del capo dello Stato. Vanno ascoltate, ma tutte, anche quando condanna chi brucia l'effigie di Giorgia Meloni, chi assalta le forze dell'ordine a Torino, trascinarlo così in polemiche contro le divise come ha fatto la sinistra è irrispettoso e scorretto, insiste Donzelli. Nel fine settimana sono previste manifestazioni pro-Palestina in diverse città italiane, a cominciare proprio da Pisa e Firenze, contenere i cortei evitando incidenti e l'indicazione. Ed è in questo clima che la politica guarda le prossime sfide regionali. Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Umbria lo fa il centrodestra che in tre casi, per superare anche distanze e polemiche, ricandida i tre governatori uscenti. Lo fa il centrosinistra che guarda con Schlein anche all'orizzonte europeo. Il post-voto in Sardegna viene vissuto in maniera diversa nei due schieramenti, con alla base il tema della compattezza. Elie Schlein è alla vigilia del congresso del Partito Socialista europeo in vista del voto a giugno. Il PD ospita a Roma l'evento con tutti i big progressisti europei, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al premier spagnolo Pedro Sanchez. L'avversario in battaglia è chiaro, la destra. Noi portiamo qui la famiglia socialdemocratica, spiega Schlein. Altri hanno portato in Italia euroscettici, nemici dell'interesse italiano, amici di puti, nazionalisti di estrema destra. Una doppia partita, quella della segretaria PD che guarda all'Europa ma anche in casa propria, visto che fra 10 giorni si vota in Abruzzo e il 21 aprile in Basilicata. Se sul fronte Abruzzo, il campo larghissimo, vede il candidato Luciano D'Amico avere un appoggio ampio, da 5 Stelle a Tel Aviv, in contraposizione all'uscente di centrodestra Marco Marsilio, in Basilicata la situazione è più complicata, con l'ingannato civico Angelo Chiorazzo che non sembra essere intenzionato a ritirare la sua candidatura, appoggiata da PD e osteggiata da una parte dei 5 Stelle locali. Da Roma a sbattergli la porta in faccia ci pensa il capogruppo pentastellato in Senato Stefano Patuanelli. Non è la persona giusta, ennesimo alt che rischia di far arenare una trattativa tutta in salita. I rapporti tra Conte e Calend sono sempre tesi, con il leader 5 Stelle che ha accusato quello di azione di oscillare e non decidersi. Vi considero populisti, incapaci, trasformisti, proprio tiniani. Avete disastrato il bilancio pubblico con provvedimenti vergognosi come il super bonus? Tenetevi il campo largo e il campo russo, scrive su X Calenda. Nel centrodestra si cerca di smaltire in fretta la sconfitta sarda. A questo è servito il comunicato congiunto per confermare i candidati, compreso il Lucano Vito Bardi e quello di Umbria e Piemonte. Hanno lavorato bene, ovunque in futuro sceglieremo i migliori che i partiti hanno da offrire, dice Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, che minimizza le tensioni con la Lega sul terzo mandato. Ne parleremo con calma. La scelta dei cittadini viene prima di tutto, risponde Massimiliano Fedriga, presidente leghista dello Friuli, che difende Salvini. In questo momento credo che lo spirito di squadra debba prevalere e sul toto segretario, che vedrebbe lui e Zaia favoriti, Fedriga glissa. Sono solo interessato a fare il segretario nella mia regione. Intanto si allarga l'inchiesta della Procura di Perugia sui presunti dossieraggi venuti alla luce l'estate scorsa in seguito ad un esposto del Ministro della Difesa Guido Crosetto dopo la pubblicazione di notizie riguardanti la sua precedente attività professionale. Anche il sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati risulta indagato per falso e accesso abusivo a sistemi informatici e banche dati in concorso con il luogotenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano. Laudati sarà sentito in procura la prossima settimana. Sono 15 finora gli indagati, tra loro anche giornalisti appartenenti alle forze dell'ordine. A quanto si apprende l'attività di raccolta dati avrebbe riguardato anche altri numerosi personaggi pubblici partilese del procedimento. Adesso andiamo a leggere nel dettaglio i numeri di un rapporto della Procura europea che sostanzialmente ci dice che l'Italia è il paese che ha causato più danni di tutti ai bilanci dell'Unione, ma ci dice anche che siamo il paese sul quale sono stati avviati più inchieste, più accertamenti per quanto riguarda i finanziamenti legati al Next Generation EU. L'Italia è in testa ai paesi che procurano danni finanziari al bilancio dell'Unione europea. Il poco meritevole primato emerge dal rapporto 2023 della Procura europea EPPO che opera in stretto collegamento con la Guardia di Finanza italiana. EPPO, a cui partecipano 22 Stati dell'Unione, è stata istituita nel giugno 2021 con il compito di indagare e perseguire reati che potrebbero ledere gli interessi finanziari dell'Unione. I danni finanziari provocati all'Unione lo scorso anno da attività illecite svolte nel nostro paese ammontano a 7,38 miliardi di euro a fronte di 618 indagini attive a livello comunitario. La maggior parte di questi reati, 5,22 miliardi, sono frodi dell'IVA. Non si tratta di piccoli reati di evasione, ma di complesse truffe che spesso coinvolgono organizzazioni criminali sofisticate, attività che sarebbe stato difficile scoprire e smantellare senza una struttura transnazionale. La Germania segue l'Italia per numero di frodi dell'IVA, 112 indagini aperte a grande distanza a Portogallo e Francia con 15 e 13 casi. Alto anche il numero delle indagini avviate sui finanziamenti relativi a Next Generation EU, programma per la ripresa economica post-pandemia Covid nella comunità europea, nel cui quadro vengono stabiliti anche i fondi del PNRR, Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. In Italia sono state avviate 179 indagini su un totale di 206 inchieste aperte nel 2023, ovvero quasi l'87%. Seguono Austria con 33 casi e Romania con 8 casi. Le frodi ai danni delle nuove fonti di finanziamento rappresentano il 25% dei danni finanziari causati al bilancio europeo. Rimane intanto pressoché stabile l'inflazione a febbraio. I dati dell'Indice Nazionale dei prezzi al consumo che sono stati diffusi dall'Istat su base mensile segnano un più 0,1% mentre quelli su base annua si attestano a più 0,8%. Nel complesso, secondo l'Istat nel 2023 l'economia italiana ha registrato una crescita dello 0,9%. La stima diffusa il 30 gennaio scorso in base alle rilevazioni trimestrali indicava invece un aumento del prodotto interno lordo dello 0,7%. Nel 2023 il rapporto deficit-pill si è attestato al 7,2%, un dato superiore, quindi peggiore rispetto alle previsioni della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che stimavano il deficit al 5,3% del PIL. Adesso ci soffermiamo sulle parole pronunciate oggi da Papa Bergoglio che ha toccato un punto molto dibattuto, un punto anche molto delicato e sensibile. Lo ha fatto condannando l'ideologia gender perché annulla, cancella le differenze. La questione dell'ideologia gender è ormai tema ricorrente del pontificato di Papa Francesco. Il pontificio è tornato a parlarne questa mattina in occasione del convegno Uomo-Donna-Immagine di Dio per un'antropologia delle vocazioni in corso in Vaticano. È ancora raffreddato e affaticato dalla recente influenza, sceglie di non leggere il discorso integrale ma pronuncia poche parole a braccio. Oggi il pericolo più brutto, più brutto è l'ideologia del gender che annulla le differenze e cancella le differenze e cancella l'umanità. Bergoglio cita anche un libro che definisce profetico sul tema Il padrone del mondo di Robert Hugh Benson, scritto nel 1907 e ambientato nel futuro distopico degli anni 2000. La condanna dell'ideologia gender è solo l'ultima in ordine di tempo. Il Papa ne aveva parlato anche a gennaio nel discorso di inizio anno al corpo diplomatico. I tentativi compiuti negli ultimi decenni di introdurre nuovi diritti, aveva detto, hanno dato adito a colonizzazioni ideologiche, tra le quali ha un ruolo centrale la teoria del gender che è pericolosissima perché cancella le differenze nella pretesa di rendere tutti uguali. Quelle frasi arrivavano a poche settimane dal via libera alla benedizione delle coppie omosessuali in chiesa, pur ben distinta dalla liturgia del matrimonio, che aveva provocato divisioni nel mondo ecclesiastico. Secondo il pontefice non c'è contraddizione tra accogliere gli omosessuali e condannare la dottrina gender. Papa Francesco lo aveva già detto nel 2016 a Tbilisi, in Georgia, quando aveva definito il gender il più grande nemico del matrimonio, contro cui, disse, si è scatenata una guerra mondiale fatta non di armi ma di idee. Nei giorni successivi Bergoglio precisò, nella mia vita di sacerdote, di vescovo e di papa, io ho accompagnato persone con tendenze e anche pratiche omosessuali, tutti vanno accolti, spiegò, ma un'altra cosa è fare l'insegnamento nelle scuole per cambiare la mentalità, queste io le chiamo colonizzazioni ideologiche. Al tema, nel 2019, fu dedicato anche un documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica, che distingueva tra approccio ideologizzato e il rispetto delle diversità. La cronaca adesso, innanzitutto, per dirvi che i carabinieri di Siracusa hanno arrestato 12 persone nell'ambito di un'operazione antimafia contro il clan Nardo, ritenuta una costola della famiglia di Cosa Nostra, catanese Santa Paola e Ercolano. Agli indagati vengono contestati reati di scambio elettorale, politico, mafioso, estorsioni, detenzione di armi e stupefacenti introduzione in carcere di dispositivi telefonici con cui gestivano i loro affari. Tra le persone finite in manette anche Giuseppe Sorbello, ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, che secondo l'accusa in occasione delle amministrative del 2022 avrebbe accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro e l'impegno ad agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato che all'epoca era detenuto nel carcere di Caltagirone. A Brescia la prima udienza per decidere sulla richiesta di revisione del processo dopo 17 anni sul caso della strage di Erba. Insieme in aula, dentro al Gabbiotto, Lindo Romano e Rosa Bazzi non si vedono, non vogliono essere ripresi nel processo per la revisione della condanna all'ergastolo iniziato questa mattina per la strage di Erba, il massacro di Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini, mentre Mario Frigerio, marito della Cherubini, si salvò dalla coltellata alla gola per una malformazione alla carotide. Era l'11 dicembre 2006, oggi, 17 anni dopo quella mattanza, la difesa della coppia cerca di mettere in discussione la loro colpevolezza in un'aula di tribunale. Se anche non me ne fosse una di queste, o addirittura tutti e tre, avremmo la possibilità comunque di fare un procedimento, un processo di tipo indiziario. La procura generale di Brescia sostiene che tutte le richieste delle difese sono inammissibili, smonta in aula ogni elemento. Non ce ne sono di nuovi, spiega l'avvocato dello Stato, Domenico Chiaro. Il presunto deficit mentale di Olindo Romano non è giustificabile, vista la velocità con cui ha cambiato versione. Dateli l'Oscar della recitazione, aggiunge. La pista che associa invece gli assassini alla criminalità organizzata per un traffico di droga viene invece smontata dal procuratore generale Guido Rispoli. Mi vado a mettere a fare un agguato, che se lo voglio fare, dentro una casa, in una corte, dove la macchina è lontana, che è una corte chiusa. L'unico sopravvissuto, Mario Frigeri, ha riconosciuto subito l'Indo Romano dal letto d'ospedale. La sua testimonianza non è stato un falso ricordo, come la difesa sostiene attraverso una serie di consulenze. Nessun dubbio sul modo di repertazione della macchia di sangue di Valeria Cherubini sul battitacco dell'auto di Olindo. Poi l'affondo nei confronti del collega magistrato di Milano, Cuno Tarfusser, il primo ad inviare alla corte di appello di Brescia la richiesta di revisione basata sugli elementi forniti dalla difesa della coppia. Per questo Tarfusser è stato censurato dal CSM. L'istanza a firma, dottor Tarfusser, è assolutamente inamissibile da un soggetto che non è titolare del potere di chiedere la revisione. L'udenza prosegue con le parti civili. C'è in aula Azuz Marzuc, il marito di Raffaella e il padre del piccolo Youssef. Ci sono i legali dei figli di Frigerio, l'unico sopravvissuto, e ci sono anche gli avvocati dei fratelli Castagna. Adesso partiamo dello sport, del campionato che torna già da stasera. Insomma, interessante si fa la lotta ai posti all'Europa. E poi qualche volta ci sono degli incroci che possono davvero decidere, dare una svolta in un senso o in un altro alla stagione. È il caso di Lazio-Milan che va in scena all'Olimpico questa sera. La delusione delle rispettive proprietà unisce Lazio e Milan a poche ore dal confronto diretto dell'Olimpico. Siamo insoddisfatti e presto ci saranno cambiamenti, avverte Gerry Cardinale, patron dei rossoneri, al quale sta evidentemente stretto l'attuale terzo posto di una classifica senza più asterischi. Il fondatore di Red Board mette nel mirino lo staff tecnico e sanitario di un club affidato di fatto a Zlatan Ibrahimovic, seduto al suo fianco a un convegno a Londra. Tutti in discussione quindi da pioli ai giocatori, compresi quelli considerati finora tra gli intoccabili. Il distacco di 16 punti dai cugini dell'Inter, che potrebbero festeggiare il ventesimo scudetto proprio nel derby del prossimo aprile, non va giù a Cardinale, pronto in estate a rivoluzionare una squadra che dopo la sconfitta con il Monza e il pari casalingo con l'Atalanta in campionato, proverà a ripartire stasera da Roma. Nonostante lo Slavia Praga di Europa League alle porte, non è previsto turnover. L'unico dubbio è legato alla presenza di Theo Hernandez, non al meglio per una botta al piede. Ultima chiamata Champions invece per la Lazio, aria pesante anche a Formello, tra l'ottava posizione, gli impegni ravvicinati che hanno svuotato il serbatoio e le scaramucce pubbliche tra Lotito e Sarri. Il presidente, che rivendica i 100 milioni spesi, non accettando alibi legati al mercato, e l'allenatore, che continua a ripetere «ho chiesto a sono arrivati C e D», restano chiusi nel loro scontento. Il gelo tra i due li spingerà probabilmente verso la separazione a giugno. Intanto le polemiche rischiano di ricadere sulla gara con il Milan e su quella di martedì prossimo con il Bayern Monaco nella Coppa più prestigiosa. Castellanos insidia immobile in attacco, dove Zaccagni, assente da oltre un mese, potrebbe tornare titolare. Tra domani e lunedì, giorno di Inter-Genua, le altre nove gare del 27esimo turno, caratterizzato dal big match di domenica al Maradona tra Napoli e Juventus. I bianconeri preparano la risoluzione del contratto con Pogba. La squalifica di quattro anni per doping è una mazzata per il 31enne francese che farà ricorso al TAS, il tribunale arbitrale dello sport di Lausanna, sperando nello sconto di pena. E poi c'è la Formula 1. Domani al via il Mondiale. Allora sono in pieno svolgimento quella che è la terza sessione di prove libere di questo gran premio del Bahrain che apre il Mondiale. Al momento il miglior tempo è di Alonso su Aston Martin, davanti a Russell su Mercedes. e le due Ferrari di Leclerc e Sainz subito dietro. Ieri a sorpresa le più veloci al termine delle prime due sessioni erano state le due Mercedes di Hamilton e Russell con le Ferrari quarta e settima. Molto nascosto invece anche nella sessione notturna il campione del mondo Max Verstappen sul Red Bull che non è andato oltre il sesto tempo. È il momento delle notizie dalla rete. La nostra redazione digitale Giulia Vataneo Buongiorno a te Luca, buongiorno a chi ci segue. Noi stiamo raccontando sul sito tg.lasette.it i funerali di Navalny e partiremo proprio dalle immagini del corteo con migliaia di persone che sta accompagnando il feretro fino al cimitero dove Navalny verrà sepolto a tra poco. Allora solo un istante di attesa e poi sentiremo tutto tra poco. Torniamo in studio allora per lo spazio dedicato all'informazione digitale che ripartiamo dalla notizia di apertura di questo stesso telegiornale ovvero i funerali di Navalny che si sono le immagini che avete visto che arrivano proprio grazie all'uso della rete. Buongiorno a Giulia Vataneo nuovamente. Buongiorno a te. Esatto, ripartiamo da qui dall'addio al dissidente russo Alexei Navalny. Stiamo seguendolo minuto per minuto sul nostro sito tg.lasette.it e allora andiamo sull'home page dove stanno comparendo appunto aggiornamenti continui su questa notizia di primo piano. Possiamo far vedere l'home page del sito. Ecco qui. Leggiamo anche gli ultimi aggiornamenti pubblicati che riguardano intanto una stima numerica di persone che hanno partecipato almeno 2-3 mila stima all'organizzazione di Navalny ma anche confermate dai giornalisti presenti a Mosca e la folla che si dirige verso il cimitero urlando il suo nome. Un aggiornamento dell'ultimo istante i media indipendenti mostrano le immagini del primo arresto della giornata dei funerali due poliziotti portano verso le camionette un uomo ammanettato. Ora però passiamo la parola alle immagini innanzitutto queste che ci mostrano come si siano radunati i russi per partecipare a questo addio a Navalny. Qui possiamo proprio alzare il volume e sentire come invocano il suo nome. Navalny! 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 E poi tra poco vedremo anche le immagini invece da terra delle persone che hanno partecipato all'addio al funerale con la polizia di fianco come vedete alcuni agenti vi abbiamo appena riferito del primo arresto della giornata. Da Mosca ci spostiamo adesso a Parigi ma sempre attraverso immagini che passano dalle reti sociali e che ci raccontano un risveglio movimentato per la città francese. Ecco andiamo a vedere anche in questo caso le immagini che abbiamo pubblicato sul nostro sito questo è l'arco di trionfo lo stiamo per vedere questa mattina i parigini si sono svegliati così con i trattori che hanno bloccato l'accesso alla celebre Place de l'Etoile scaricando balle di fieno anche in questo caso possiamo alzare un po' il volume e far sentire gli effetti si tratta di una manifestazione che non era stata annunciata dunque accolto di sorpresa i parigini e anche le autorità tanto che poi sono intervenuti gli agenti per sgomberare e sono state fermate 66 persone 66 agricoltori che hanno anche resistito cercando di mantenere il blocco stradale che fa parte delle proteste degli agricoltori di queste settimane particolarmente accese in Francia soprattutto contro le politiche europee ma anche quelle nazionali tanto che è stato contestato anche il presidente francese Macron al Salone dell'Agricoltura proteste che però non si sono solo concentrate contro il governo ma hanno preso di mira anche esponenti dell'opposizione intanto ci faceva sorridere questa immagine che ci mostra una Parigi rovesciata da queste proteste però dicevamo guardate cos'è toccato a Marion Marechal candidata capolista del movimento di Eric Zemmour Reconquette quando ha fatto visita lei stessa al Salone dell'Agricoltura di Parigi ecco lo ricarichiamo un attimo ci sono stati saluti un po' più affettuosi altri un po' meno come vediamo ecco qui qualcuno le ha rovesciato in testa una pinta di birra non è stato ancora identificato e la destra francese punta il dito contro estremisti di sinistra torniamo adesso con le immagini ad occuparci di una vicenda di cui si era molto discusso l'anno scorso vale a dire il Titan ricorderete quel piccolo sommergibile privato di una compagnia che assistiva i turisti in viaggi per vedere da vicino il relitto del Titanic sommergibile che è imploso uccidendo le cinque persone a bordo a giugno dello scorso anno torniamo a riparlarne perché un documentario appena uscito di cui ha parlato anche la BBC e infatti tra poco andremo sul canale YouTube dell'emittente britannica ha rivelato per la prima volta quei colpi che in un primo momento avevano fatto sperare che provenissero proprio dal Titan colpi ripetitivi appunto recepiti dai sonar nelle acque nelle profondità dell'oceano poi è stato si è capito che in realtà si trattava probabilmente di rumori provocati dall'oceano stesso o da altre imbarcazioni che erano impegnate nella ricerca però per la prima volta li possiamo sentire e sempre dai social ci arrivano immagini che ci raccontano del recupero di Sofia Goggia impegnata in palestra e in piscina dopo l'infortunio patito dalla campionessa di sci che è stata anche operata dopo la frattura di Tibia e Malleolo e adesso come vedete rincuore i fan e dice oggi grandi progressi e sta recuperando alla grande in chiusura siccome le immagini sono state diffuse su Instagram da Goggia restiamo proprio su questo social vi ricordiamo che è presente il TG la 7 official dovete cercare e abbiamo appena pubblicato un sondaggio realizzato da SVG su un tema molto caro a tutti vale a dire le iniziative più efficaci contro il calo demografico al primo posto come risposta a un miglioramento per delle politiche lavoro famiglia per il 47% di chi ha risposto 42% incentivi fiscali per famiglie con figli più servizi pubblici per la loro cura nel 32% dei casi migliori servizi di assistenza all'infanzia 26% e 11% favorire l'immigrazione per compensare la diminuzione della popolazione con questo ci salutiamo la linea torna Luca speciale grazie grazie Giulia allora non resta che chiudere questa edizione non ci sono aggiornamenti vi lascio a Tagadà prossima edizione del telegiornale come sempre alle 20 buon pomeriggio sulla 7